1, 2, 1, 2, 3 Ciao, sono Nadia, presidente della scuola Naima di Roma. Ci differenziamo dalle altre scuole di musica perché poniamo la nostra attenzione sul percorso individuale degli allievi che viene prospettato e progettato. I nostri corsi sono rivolti a tutti quegli strumenti che sono caratteristici delle jazz band. Non manca però lo studio del Digeritù, del NEI e del Bansuri e tutti i corsi sono divisi per livelli, principianti, intermedi e avanzati. Accanto ai corsi di strumento abbiamo anche dei corsi speciali. Corsi speciali sulle tecniche di improvvisazione che è l'anima stessa del percorso musicale dei nostri allievi, sull'armonia funzionale e sulla storia del jazz. Un altro momento importante della formazione è rappresentato dai laboratori di improvvisazione. Infatti spesso portiamo fuori i ragazzi a suonare. In alcuni locali che si prestano sia per l'atmosfera che per anche disponibilità del gestore. I nostri docenti sono tutti affermati nel panorama jazz romano. E che hanno costruito la loro esperienza suonando con molti musicisti italiani, europei ed anche americani. E questa è la nostra scuola. Veniteci a trovare sul nostro sito www.naima.it e sul nostro canale YouTube.